Voglio iniziare da Stefano Gentile e non so niente, però comunque spero tutti quanti noi speriamo che sia una cosa da poco e che possa tornare in campo prima possibile e un abbraccio ovviamente da parte di tutti noi che uomini di sport sappiamo quanto è doloroso uscire dal campo in barella, quindi un grande in bocca al lupo. Poi siamo molto contenti di aver fatto tanto di aver vinto perché ovviamente tutti quanti voi sapete quanto avevamo bisogno di due punti in classifica e quindi questa è la prima cosa da sottolineare perché quando c'è questo bisogno, quando c'è questa pressione non è facile tirar fuori una prestazione di questo genere e quindi sono molto contento e orgoglioso di questo e poi appunto siamo riusciti a fare una gara straordinaria da tutti i punti di vista partendo dall'abnegazione e dalla dedizione e dall'attenzione difensiva. Abbiamo cercato di fare un po' di tattica per rallentare il ritmo, per cambiare il ritmo alla partita, per mettere qualche dubbio nell'attacco dei nostri avversari che, insomma, conosciamo tutti a essere così efficace, così ben organizzato. Credo che questo sia riuscito, da questo punto di vista siamo riusciti a farlo bene, ma anche altre volte le idee erano buone, però non eravamo riusciti a metterle in campo con questa determinazione e con questa attenzione. non abbiamo sofferto rimbalzi, cosa che spesso quando si fanno queste zone un pochino miste, diciamo così, può essere un punto debole. abbiamo sofferto il grande rammarico, la grande paura che abbiamo avuto fino alla fine e dovuto al fatto che abbiamo perso ancora troppi palloni. abbiamo sofferto un po' la pressione e gestito male alcuni possessi, anche se io credo che in diverse di quelle situazioni in cui abbiamo perso il pallone, il pallone ci potevano stare dei fischi, da parte no, a favore nostro, però insomma al di là di questo, soprattutto nel terzo quarto, abbiamo veramente battuto in testa con tante palle perse. Niente, sono molto contento anche perché questa vittoria è arrivata dopo la delusione di aver solo visto la Madonna, nel senso che questo giocatore che ormai abbiamo preso, che è arrivato, ma non siamo riusciti a mettere in campo, insomma, aver dato questa prova e aver fatto questa partita, aver vinto anche senza di lui, io credo ci darà una spinta emotiva ma non da poco, quando poi lui riusciremo a, spero a breve, metterlo in campo. Sì, abbiamo fatto questo tipo di partita anche, devo dire, in situazioni di nuove, perché questo tipo di partita non avevamo mai messa in campo, avevamo fatto a volte a spot, cercando di appunto sorprendere i nostri avversari, invece questa sera abbiamo deciso di farlo, di metterla in campo con più continuità e probabilmente a volte le risposte dei giocatori dipendono anche da quanto gradiscono le proposte che gli fai quindi magari sarà un modo questo per stimolare noi allenatori anche a trovare altre cose che piacciono ai giocatori e cose che magari poi in campo faranno così bene come hanno fatto stasera. Sì, abbiamo prodotto tanto con l'asse Play Pivot, stiamo migliorando guardando quell'aspetto che per tanto tempo ha fatto fatica a darci delle soddisfazioni. Noi ci aspettavamo che andare a far punti in area fosse non facile perché loro hanno due giocatori interni veramente che coprono il canesto molto bene, però li abbiamo costretti con la nostra difesa a rinunciare spesso e volentieri agli unghi hanno giocato tanto con quintetti piccoli quindi probabilmente questo ci ha aperto abbiamo fatto più di una volta le linee di penetrazione, le linee di taglio questa sera abbiamo fatto diversi bei canesti anche con i tagli quindi abbiamo attaccato bene l'area, cosa che alla vigilia sinceramente speravo ma non era così sicuro che saremmo riusciti a farlo. Grazie 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 Grazie